Intanto grazie per questa opportunità di parlare ai dipendenti ISPRA di un tema che ha messo molto a cuore e che seguo da tantissimi anni. Diciamo che tra l'altro è molto bello anche il fatto che ci sia questa coerenza tra l'iniziativa del Mobility Manager e quello che è stato quest'anno un po' il tema centrale anche del rapporto aereo-urbane che era dedicato proprio alla mobilità sostenibile, alla mobilità dolce e quindi anche pedonare. Io credo che vivere da dipendenti di un grosso ente pubblico che si trova nella periferia romana la dimensione dell'attraversamento della città per regarsi al lavoro a piedi è sicuramente un'esperienza che può apparire inizialmente molto difficile, molto complicata. Il primo problema che ci si pone è un po' la distanza, la sicurezza, l'intermodalità con i mezzi pubblici e tutto quindi appare molto difficile. Allora intanto oggi ci sono degli strumenti che rendono anche abbastanza invece simpatica la cosa, può essere quasi anche un gioco a mettersi un po' in discussione, a cercare di superare quel momento anche di pigrizia e so che tra l'altro proprio il vostro Mobility Manager sta organizzando una mappatura dei percorsi possibili, percorsi in sicurezza che poi andranno chiaramente verificati anche con le istituzioni locali, con i municipi, con il comune. Però ad esempio io mi muovo spesso a Roma facendo molti chilometri, mi muovo sempre a piedi. Adesso abito fuori in questa fase della mia vita ma anche quando abitavo a Roma andavo sempre a piedi ad esempio al Ministro dell'Ambiente facevo 4 km all'andata e 4 a ritorno e avevo studiato un percorso sicuro, l'avevo individuato così da solo. Ed è molto bello ad esempio cercarsi un itinerario che ti permette di andare al lavoro senza stress perché non devi salire sulla macchina, il traffico e di cercare anche luoghi sicuri ma soprattutto anche belli perché questa città nonostante ahimè situazioni di forte degrado che tutti conosciamo però è comunque una città che riserva sempre degli angoli molto interessanti, molto appunto belli e quindi c'è anche questo elemento appunto della scoperta. ma all'epoca quando io mi organizzavo per questo itinerario non c'era ancora per esempio lo strumento di Google Maps che adesso invece è straordinario. Voi sapete che c'è l'indicazione ci sono indicazioni degli itinerari anche pedonali oltre che quelli con l'auto con i mezzi pubblici e c'è scritto addirittura anche ti dà anche un po' il tempo di percorrenza e loro calcolano intorno ai 4,2 km l'ora e però ognuno poi si può scegliere un po' il suo itinerario e appunto lo può calcolare e quindi anche molto può essere anche divertente con lo smartphone non riesce anche a calcolare questo itinerario e diciamo che Roma un po' ha una facilità nella scelta diciamo del muoversi a piedi c'è una motivazione in più per chi magari abita nelle zone abbastanza centrali e lavora in centro no perché lì anche l'esaltazione della bellezza è superiore si attraversano dei parchi molto belli no si possono utilizzare le aree verdi come itinerario e sicuramente è diverso invece l'attraversamento l'attraversamento magari addirittura di zone quasi esclusivamente periferiche esempio l'ISPRA e l'EUR non è certo la zona degradata con molte periferie romane dove sicuramente la motivazione del muoversi a piedi anche per godere un po' diciamo di un paesaggio anche urbano bello insomma è un po' più difficile però anche lì per esempio poi non è poi così vero perché ci sono delle esperienze fatte anche a Milano anche in altre città europee dove la pedonalizzazione piano piano magari si è diffusa anche come infrastruttura con ari pedonali più ampie con le piste ciclabili ad esempio sia ciclabili che pedonali più ampi diciamo percorsi più ampi però poi però magari si è iniziato proprio con la scelta di cominciare da soli a individuare questi itinerari ad esempio nella periferia romana ci sono delle grandi ari verdi penso a zona di Centocelle o dell'Alessandrino ci sono dei grandi parchi urbani che possono essere tranquillamente utilizzati per questi itinerari pedonali ed è meraviglioso alzarsi la mattina e magari pensare di andare al lavoro facendo anche quei quattro cinque chilometri perché questo è possibile si può fare ci si sente meglio si sente più rilassati camminando anche in città i pensieri sicuramente viaggiano in modo più tranquillo che stare dentro una macchina bloccata nel traffico o magari addirittura anche su mezzi pubblici stracolmi quindi queste distanze sono percorribili e si possono fare appunto anche nelle periferie si può andare all'euro che abita all'euro insomma non ha grandi problemi da appunto questo punto di vista perché comunque uno spazio urbano molto ampio molto aperto pieno di verde e anche andare ad esempio dal centro all'euro dopo magari aver preso un mezzo che ci ha avvicinato al posto di lavoro è possibile perché ci sono degli itinerari praticabili ma al limite anche lungo la Colombo insomma non è detto che non ci possano essere degli spazi diciamo di questo tipo utilizzabili ripeto c'è una motivazione di fondo che poi può essere legata anche a degli incentivi che vengono messi in campo da parte ovviamente dell'amministrazione come sta accadendo anche in altri paesi si parla di incentivi perché arriva a piedi o arriva in bicicletta al lavoro incentivi di vario tipo insomma addirittura possono essere quasi di tipo economico diretto o indiretto e quindi questo è un elemento molto interessante e poi c'è tutto l'aspetto veramente della salute l'organizzazione mondiale della sanità ce l'ha ricordato insomma la responsabile europea la racioppi francesca racioppi per l'ennesima volta anche nell'incontro appunto nella presentazione del rapporto aere urbane ma è ormai questo è un dato risaputo da tutti che camminare anche una città come roma che ha un livello di inquinamento importante in alcuni periodi dell'anno è però comunque conveniente dal punto di vista della salute psicofisica rispetto allo stare fermi appunto dentro un abitacolo non è assolutamente vero che c'è meno che si sia protetti ad esempio da un inquinamento anche dal punto di vista diciamo del polveri sottili o quant'altro e poi appunto c'è questo gap del benessere anche psicologico e che è molto importante ho testimonianze di antiamici che erano scettici nel mettersi in cammino in città a roma invece hanno cominciato ad andare a piedi appunto al lavoro facendo volta anche cinque sei sette chilometri ma non è che tutti deve essere così ovviamente dei supereroi no ci sono spostamenti veramente di tre quattro chilometri che si possono fare tranquillamente e guardate sono molti sono tantissime le persone che fanno spostamenti di questa dimensione molte di più di quelle che noi pensiamo no perché roma città così grande e quindi si pensa sempre a distanze molto 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 ampie io ho fatto una volta mi sono divertito a fare l'albergata al centro ho trovato piano piano il mio itinerario passando vicino al parco dell'appia antica tra l'altro ecco perché per chi abita in quelle zone ad esempio utilizzare questo polmone verde questo meraviglioso spazio che vada al centro della città fino a oltre diciamo raccordo anulare ecco per esempio utilizzare quello spazio è una un'opportunità incredibile che solo roma forse ha insomma anche rispetto a tutte le altre città europee quindi io penso che c'è molto da fare ma bisogna trovare diciamo superare un po la pigrizia trovare questo aspetto motivazione motivazionale che è legato sia al benessere come dicevo prima psicofisico ma anche al godere di una città a passo lento una città che è molto più bella trovare anche per esempio degli spazi che diventano poi dei luoghi di incontro anche la mattina magari trovare un bar carino lungo il percorso fare incontrare anche delle persone insomma è veramente qualcosa che ci aiuta proprio a cambiare il nostro stile di vita quindi veramente sono molto contento e faccio i complimenti appunto alla mobility manager dell'ISP per aver organizzato questo momento di riflessione e spero di mio contributo possa essere d'aiuto un po anche come mia esperienza diretta per un aspetto prettamente motivazionale e buon cammino a tutti noi grazie per aver guardato il nostro canale Grazie a tutti. Grazie a tutti.